Noi potremmo immaginare le Alpi come un grande arcipelago nel cuore dell'Europa, con tante isole quante sono le valli e ogni isola, ogni valle con una sua specificità, una sua particolarità, un suo tratto culturale ben definito. Le Alpi Segrete sono tutte quelle isole, isole e valli che stanno fuori dal mondo più commerciale, più conosciuto delle Alpi, cioè fuori lontano dai centri più frequentati dal turismo di massa come Cortina, Courmayeur, Saint-Moritz, tutto quel mondo un po' segreto che sta dietro questo velo di oblio segnato dallo spopolamento negli anni dopo il boom economico che ha lasciato da una parte gravi ferite con l'emorragia dei giovani verso le città del triangolo industriale Milano, Genova e Torino. Ma dall'altro lato anche storie dimenticate che potrebbero essere ripescate suscitando generose fantasie e anche in qualche modo un eco lontana di momenti drammatici che possono essere comunque ripresi per farci riflettere. Grazie per la visione!